Oggi è un giorno importantissimo, anche questo è un altro tassello importante per la nostra città, ci troviamo nel cuore di Agrigento, si è stata ripristinata la fontana che era stata abbandonata negli anni, ristrutturata a livello fisico e l'impianto idrico è stato ripristinato. Ci troviamo qui alle spalle dell'officina delle tradizioni popolari, dedicata a Gigi Casetti, e questo è il primo luogo del cuore FAI che si trova proprio ad Agrigento. Proprio per questo io volevo rimarcare la sinergia tra l'amministrazione comunale e l'amministrazione provinciale, però penso sia doveroso dare la parola all'avvocato Taib, che tutto sommato è il vero protagonista. Grazie, troppo buono. Intanto rinnovo gli auguri di buon compleanno e grazie di essere venuto in questa ricorrenza particolare. Sicuramente i luoghi del cuore sono una delle manifestazioni più importanti. Sapere che questa bella realtà è diventata primo luogo del cuore ad Agrigento, ha superato i 3.000 voti, è sicuramente un obiettivo importante. Quest'anno, peraltro, noi pensiamo di valorizzarla anche con le giornate FAI di primavera. Per motivi legati alla zona arancione non le potremo svolgere questo fine settimana, ma le svolgeremo il 5 e 6 e uno dei luoghi valorizzati sarà proprio questo. Quindi quale migliore occasione, ringrazio anche i delegati che sono accanto a me, ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio l'amministrazione provinciale, quale occasione? Quella di anticiparvi queste giornate con la scopertura di una targa. Siamo qui stamattina per scoprire questa bella targa come luogo del cuore di Agrigento per l'Officina delle Tradizioni Popolari. È un altro bel posto che apriamo ad Agrigento come luogo del cuore, però è il primo che apriamo proprio in pieno centro città. Per me è un onore doppio perché, oltre a essere il segretario della delegazione FAI di Agrigento, ho anche fatto parte del gruppo Valdagras per ben dieci anni, per cui è un doppio momento significativo per me. Io chiamavo il signor Casesa, per me era zio Gigi, ecco, questo per fare capire i rapporti che c'erano tra di noi, giovani agrigentini che portavamo avanti quest'arte del folclore. Quindi questa mattina rinnovo la mia contentezza nell'apertura e nella scopertura di questa targa perché mi vede impegnato, dicevo, con il cuore, oltre che con la ragione del FAI. Il FAI recupera un luogo dell'identità agrigentina, della storia, della memoria agrigentina, delle tradizioni popolari, del folklore. È un personaggio agrigentino come Gigi Casesa e io penso che il recupero di questa storia, piena di contenuti, di valori, sia importante per trasferirlo alle nuove generazioni. Quindi una città che non perde la memoria è una città che investe nel proprio futuro. Un bel momento.